Mezzo milione di persone assiste alla maratona di Boston. Tommy! Amore! Stai facendo il bravo? Certo! Qui data 984! Esplosioni multiple! Ci serve aiuto! Non sei ferita, vero? No, sto bene. Ti prego, sta' attento. Questo? Cappellino bianco. È lui! Confidiamo nell'aiuto dei cittadini per identificare questi due sospetti. E che... Sai della bomba alla maratona? Sì, ho saputo. Sai chi è stato? Ce l'hai davanti. Dobbiamo trovarli prima che uccidano altre persone. Catherine, ci sono altre bombe? Questa è la guerra tra il bene e il male. Sono a Watertown! Gli daremo la caccia. Gli prenderemo. Hanno provocato la città sbagliata. La guerra tra il bene e le dimentica. Essa è la guerra tra il bene. Grazie a tutti